L'Abruzzo punta alla vetrina mondiale dell'Expo di Dubai. Saranno diversi gli appuntamenti che si terranno in occasione del Regional Day all'interno del Padiglione Italia, dove la delegazione abruzzese avrà la possibilità di mettere in mostra le nostre eccellenze produttive. I dettagli sono stati illustrati dal presidente Marco Marsiglio, dall'assessore alle attività produttive Daniele Damario e dal presidente di Abruzzo Sviluppo Stefano Cianciotta. Le iniziative saranno promosse in collaborazione con Arap e le Camere di Commercio abruzzesi, che dovranno mettere in rete le occasioni di promozione del territorio. È un appuntamento grazie al quale le imprese avranno occasione di lavoro, incontro e reciproca conoscenza per presentare sul mercato le loro capacità, ha detto il presidente Marco Marsiglio. La missione si snoderà per tutto il mese di febbraio e l'Abruzzo porterà ben 26 imprese anche del polo tecnologico aquilano, un numero certamente rilevante e ben rappresentativo. Dal 7 al 12 febbraio l'agri-food sarà il tema, oltre 100 prodotti di eccellenza abruzzesi saranno portati a Dubai con l'obiettivo di aprire i mercati stranieri. Anche il mondo delle università avrà un ruolo molto attivo a rappresentare quella dell'Aquila, il rettore Edoardo Alesse. L'Ateneo porterà a Dubai docenti che racconteranno un progetto nato con la collaborazione di Telespazio, Leonardo e altri partner per la realizzazione di uno strumento intelligente di locomozione che minimizza l'inquinamento e ottimizza la sicurezza nell'ambito della mobilità sostenibile.